Oh! E' questa? Oh no! Pupu è impazzito! Grazie amici di essere venuti! Forza! Trasformatevi! Sì! Ar Spongebob nom! Sì! Ar Spider nom! Sì! Ar Damilla nom! Sì! Ar Spider Gwen nom! Sì! Ar Paw Patrol nom! Sì! Ar Momo nom! Andiamo! Andiamo! Questo potere mi è nuovo! Cosa potrei fare? Forza Damer! Usa queste cacche esplosive! Damer! Attacca! Damer! Oh! 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 Oh ho! Oh! Agh! Oh ho! Uppuutse! Ah, che sete! Oh, la migliore! Che incubo! Ok, Faso, andiamo a fare colazione! Ehi, volete fare colazione? Caffettino? No! Grazie! Perché non riesco a uscire da qui? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ma... Sono nel bagno! Come ho fatto arrivare qua? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Che è successo? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh... Sono tornato umano! Non sono più un water... Forse... Chi è? ma faccio chi sei tu sei tornato grazie a tutti per essere venuti mi ho chiamati perché ci serve il vostro aiuto dobbiamo eliminare la minaccia qui fuori forza pupù sai cosa fare dai su andiamo forza che state aspettando unitemi insieme buon buon Ma... sono Frozen! Wow, ho sempre sognato di essere una principessa Disney! Oh, 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 oh Sì, anche io voglio ballare con il grande Baby Yora